Siamo a più o meno metà per borsa con 4 treni molto molto vicini Siamo a presto da mettere la parte finale 2-3 treni in questo momento affiancati Per prendere a tocarsi la parte finale di questa prima randolita E numero 5-5-5, il problema è il problema con 36,73 Parchezza non regolare Parchezza regolare per questa seconda battaglia in questo caso Mi sembra la trenta dell'olivio in questo momento trattato Tanno un'altra dalla trenta del prebusco Ma andiamo a vedere come si presenterà nella parte finale di questa seconda battaglia E andiamo, vediamo questo finale di diecinissimi Questa sarebbe la cosa più di ricordarvi il finale Ma in tempo di 3-5-10 E anche con questa l'olivio in questa battaglia Ma all'olivio in questo momento Tutti i treni in questa battaglia Ma noi abbiamo in questo momento E abbiamo in questo momento Il primo avranno il più di pataglia Non esiste un paio quadro Questo è un paio quadro Ma non esiste un paio quadro E non esiste un paio quadro C'è un paio quadro Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.